A Trani una nuova sede CISL declinata quale luogo di incontro, confronto e riferimento dei lavoratori e dei pensionati. Una scelta è la cittadina delle BAT che si sposa con l'idea di un luogo che nonostante le difficoltà economiche che incontra può rappresentare un valido volano economico complici le bellezze architettoniche e paesaggistiche. Trani inoltre è una città che cresce demograficamente con un aumento però anche della fascia dei meno giovani. Da ciò la nuova sede inaugurata saprà essere luogo di riferimento per i numerosi anziani che ne avessero bisogno ma anche per i più giovani e i problemi legati all'assenza di lavoro. Un taglio del nastro che ha riscosso consensi. Noi continuiamo questo percorso di rafforzamento e di radicamento soprattutto della nostra organizzazione sindacale sui due territori che la CIS di Bari gestisce, nella città metropolitana di Bari e in questo importante territorio della BAT. Trani oggi presenta una nuova sede, la nuova sede della CIS più ampia, più efficace, più funzionale. Ci radichiamo con un miglioramento anche della qualità dei servizi che noi offriamo alla cittadinanza non solo quindi ai lavoratori che tuteliamo nei luoghi di lavoro ma anche e soprattutto a quello che vogliamo offrire i bisogni tipici della collettività che si rivolgono al nostro sindacato. Abbiamo una qualificazione della presenza dei nostri servizi di assistenza previdenziale con il nostro patronato Inas, con i nostri CAF, con i nostri servizi per gli immigrati, per gli utenti delle abitazioni pubbliche. Quindi l'offerta diventa più forte, più radicata e un sindacato più forte, più radicato può determinare anche un'azione concreta di diffuso benessere considerando che in questo territorio abbiamo sottoscritto anche negli ultimi mesi proprio con l'amministrazione comunale un importantissimo protocollo di intesa sulle relazioni sindacali che mette al centro importanti materie di confronto ma soprattutto mettiamo al centro un obiettivo condiviso rilanciare l'attrattività e lo sviluppo della città di Trani per dare occupazione a questa città che ovviamente vede oggi degli indicatori socio-economici un po' preoccupanti ma su quali tutti quanti abbiamo messo una scommessa, sindacati e parte politica.